Trovo sia estremamente importante un evento come Vivi Internet al sicuro in quanto aumentare la consapevolezza degli utenti, dei personali tecnici e dei giuristi in questo caso per creare soluzioni a problemi, soprattutto con l'avvento di queste nuove tecnologie tra le quali Internet of Things, i dispositivi connessi, si realizzeranno una serie di problematiche che dovranno richiedere soluzioni sul campo. Possibilmente queste soluzioni devono essere anticipate rispetto a quelle che saranno le problematiche.